Dopo 20 anni siamo riusciti a riportare Masaccio a San Giovanni Baldano in una mostra che è stata allestita e che poi concluderà il 5 febbraio in collaborazione con le gallerie dell'uffizio e la Fondazione Nassa degli Spalmi di Firenze e stiamo già organizzando per l'anno 2023 una nuova mostra, una nuova esposizione sempre legata al progetto Terre degli Uffizi e Uffizi di Fuso.